attenzione nuovo supercharger su crypto.com mmf mmf finance è stato ufficialmente lanciato come supercharger su crypto.com e quindi abbiamo la possibilità nei primi 14 giorni di poter mettere in staking i nostri grow per ottenere un api stimato fino al 30,25% ma attenzione a questa percentuale infatti vi invito a visionare questo video che trovate anche in descrizione dove chiariamo a 360 gradi come funziona il supercharger e qual è il miglior modo per mettere a rendita i grow o comunque le criptomonete all'interno di crypto.com perlomeno rispetto a quelle che erano le vecchie percentuali in ogni caso guardate questo video però prima di guardare quel video ascoltateci attentamente per quanto riguarda il supercharger perché in questo video vi diremo come poter partecipare al supercharger quindi come funziona come poter ricevere ricompense e che cosa viene messo a disposizione da crypto.com andiamo all'interno del sito web ufficiale di crypto.com e come possiamo vedere puoi avere la possibilità di puntare crow e guadagnare mmf con un'assegnazione di 500.000 dollari di ricompense in controvalore naturalmente in mmf quindi in mm finance crypto.com quindi dà questa possibilità e addirittura attraverso il suo sistema il supercharger 10 per booster dà la possibilità a 88 fortunati partecipanti di poter aumentare questo guadagno fino al 32% quindi chiarisco già questa cosa che il 30,25% in realtà non è e quindi il 32% non è per tutti ma è per 88 persone selezionate quindi selezionate naturalmente in maniera randomica quindi non è che li selezionano secondo quelle che sono le loro preferenze questo è importante questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo la possibilità se abbiamo crow di poterli mettere a rendita e grazie ai crow generiamo questa criptomoneta e addirittura se siamo fortunati quindi in ogni caso abbiamo un guadagno che è minore rispetto a questo 32% però in ogni caso quello che noi possiamo fare è se vinciamo avere poi questo guadagno e il 32% anno è veramente alto quindi chi vince gli 88 fortunati partecipanti naturalmente avranno questa grande opportunità per poter fare questo bisogna avere l'account nft di Crypto.com abbiamo fatto un tutorial apposito andatelo a vedere in basso in descrizione comunque troverete il link per registrarvi a Crypto.com e ricevere un bonus di benvenuto di 25 dollari quindi per poter avere l'account nft e naturalmente partecipare al supercharger vi dovete obbligatoriamente registrare a Crypto.com dal link che trovate in descrizione detto questo cerchiamo di capire come funziona il supercharger che cos'è MMF e naturalmente altri dettagli che potranno tornarvi utili che cos'è MM Finance il più grande ecosistema su Kronos con i suoi DEX che è il Optimizer, NFT, Argo Stable Coin e DTF e il primo automatic market maker è DEX quindi exchange centralizzato su Kronos Chain che offre sconti sulle commissioni tramite il trade mining ha le commissioni di trading più basse in assoluto e praticamente lo vediamo qui andiamo sul sito web mm.finance abbiamo tutti i dettagli come potete vedere abbiamo la sezione earn con le farm e le pool possiamo effettuare i trade partecipare nei vault e quindi ci sono i launchpad i madebox e così via quindi abbiamo veramente tante i games eccoli qui quindi abbiamo tante opportunità su MM Finance quindi capito che cos'è MM Finance cerchiamo di comprendere invece come funziona il supercharger in generale di Crypto.com e poi cerchiamo di comprendere a 360 gradi come funziona questo supercharger potrete partecipare al supercharger per esempio dalla vostra app di Crypto.com quindi andate nella sezione supercharger troverete questo ultimo supercharger con un countdown infatti abbiamo un periodo di ricarica in questo periodo poi noi possiamo essenzialmente mettere i crow in staking all'interno del supercharger quindi bloccare i nostri crow che comunque possiamo toglierli in qualsiasi momento non abbiamo l'obbligo di tenerli sempre lì e anche se li mettiamo quando mancano 8 giorni, 7 giorni lo possiamo fare in ogni caso perché riceveremo un'allocazione quindi comunque una ricompensa in funzione di quanto tempo noi siamo poi rimasti attivi all'interno del supercharger naturalmente prima entriamo e meglio è cliccando su scopri di più ecco che entriamo all'interno appunto di questa sezione come potete vedere qui ci dice l'API stimato ma come vi ho detto già qui e lo possiamo vedere saranno solo 88 che avranno questo API ok infatti potranno aumentare di 10 volte i loro premi stimati di circa il 3,2% per questo evento quindi in teoria Crypto.com si aspetta un 3,2% di API stimato se non fai parte degli 88 fortunati vincitori quindi quello che noi possiamo fare è innanzitutto nel periodo di ricarica inserire i nostri crow all'interno del supercharger trovate il tutorial del supercharger all'interno del canale magari lo inseriamo anche in descrizione così vedrete esattamente tutto quello che dovete fare per poter entrare nel supercharger una volta che termina questo periodo di ricarica e terminerà il 18 aprile 2022 inizierà il giorno dopo il periodo di accettazione ok e poi il periodo di ricompensa l'unica azione che noi dobbiamo fare dopo aver inserito i nostri crow all'interno del periodo di ricarica ok in automatica alla fine del periodo vengono inseriti in un altro supercharger quindi non vi preoccupate non dovete fare nulla però l'unica cosa è durante il periodo di accettazione che naturalmente qui ci fa vedere quello che è l'orario vi ricordo qui dovremmo aggiungere forse due ore in più perché siamo due ore avanti rispetto all'UTC quello che dobbiamo fare è accettare ok accettare questa ricompensa facciamolo nel momento in cui finisce il periodo di ricarica inizia il periodo di accettazione così prenderemo la ricompensa la ricompensa che comunque in questo caso verrà pagata in MMF ok ci verrà data una volta al giorno per 14 giorni ok infatti se io vado praticamente all'interno del supercharger vediamo se ce la fa vedere qui comunque ve lo dico io in ogni caso dopo questo periodo di ricarica c'è un periodo di ricompensa eccolo qui di 14 giorni ogni giorno riceveremo una parte degli MM Finance che ci spettano ok quindi comunque da questo punto di vista verrà tutto in automatico e ce li ritroviamo nel nostro wallet andando qui in basso ci dà un esempio Crypto.com di quello che succede se noi mettiamo in supercharger i nostri grow ok non li togliamo mai va bene naturalmente se lo facciamo nel momento in cui esce il supercharger è molto meglio lo potete fare anche dopo essenzialmente se lo fate dopo riceverete qualcosina in meno immaginate per esempio di inserire in questa supercharger 100.000 cro ok non li toccate quindi non fate nulla per tutti i giorni del supercharger per i 14 giorni alla fine del periodo questo è il calcolo che verrà fatto per capire quanti MMF riceverete essenzialmente voi quello che dovete fare quando finisce il periodo di ricarica come vi ho detto dovete entrare accedete all'account accettate l'assegnazione totale della ricompensa e riceverete per 100.000 cro secondo quello che il calcolo che stanno facendo qui 50 MMF ma non li ricevete tutti insieme infatti li riceverete qui ci fa vedere l'esempio di 30 giorni quindi 1,66 MMF al giorno in questo caso sono 14 quindi essendo 14 sarà una cifra differente comunque il totale di quelli che voi dovreste ricevere vengono suddivisi per i giorni del periodo di ricompensa naturalmente ripeto questo è importante se durante il periodo di ricarica voi caricate tipo 100 cro poi li togliete poi li rimettete ne aggiungete altri e così via diciamo che i calcoli sono leggermente diversi quindi non potrete esattamente sapere quanto andreste a ricevere di MMF a meno che non vi mettete a fare i calcoli lì specifici comunque calcolate più o meno che il ritorno da quello che ci ha detto anche Crypto.com rispetto a quello che noi andiamo a depositare è del 3,2% annuo che significa che noi dobbiamo dividere 3,2 diviso 365 che sono i giorni all'anno e sappiamo al giorno quanto ci genera questo investimento siamo quindi arrivati alla fine di questo video in descrizione trovate due video che vi consigliamo di visionare per capire a 360 gradi come funziona il supercharger di Crypto.com ci vediamo in un prossimo video ciao e a presto